L'incidente in strada levata a Favria questa mattina è torna alle 7. Una Fiat Grande Punto condotta da un 27enne di Castellamonte è uscita fuori strada finendo con il lato sinistro della vettura nel fosso che costeggia la carreggiata. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Rivarolo Canavese, i carabinieri di Ronco Canavese e la Croce Bianca del Canavese. Il giovane illeso è stato aiutato ad uscire dall'auto ed è stato portato al pronto soccorso di Guarnier per controlli.